Ragazzi, video rapidissimo solamente per dirvi che oggi alle 5 e mezza sarò live con voi su YouTube faremo una chiacchierata sulla tre giorni europea che si è appena conclusa parleremo della vittoria della Roma per 2-1 contro i Young Boys parleremo di Champions League, di Europa League parleremo anche del prossimo turno di campionato che si avvicina e perché no, magari anche qualche consiglio sul fantacalcio ragazzi, che dire, il canale lo conoscete Bigus underscore official e vi aspetto tutti quanti in live alle 5 e mezza Ciao